Beh, devo dire, è una bella partita, complimenti ai ragazzi perché hanno avuto un atteggiamento giusto da battaglia come piace a me, ma come piace anche a loro, perché è una squadra che quando voglio difendere, si è visto anche oggi, riesce a dare veramente grande intensità. E questo mi fa molto piacere perché dà continuità ovviamente alla partita di Cremona, con Cremona dove siamo andati un po' a strappo, in realtà dà continuità la vittoria di Pistoia, abbiamo tenuto a 67 se non sbaglio Pistoia, oggi Bologna a 65, quindi complimenti ai ragazzi per lo sposto che stanno facendo. Vittoria chiara, vittoria netta, dove sicuramente tutti hanno avuto importanza, per cui diversamente direi un bello spettacolo di pubblico e ringrazio il pubblico perché è stato bello, è una cornice che sta piano piano prendendo un corpo e numeri ed ovviamente questa è una cosa che fa molto piacere alla squadra, giocare a un palazzetto più caldo e ovviamente per loro più facile e più coinvolgente, per cui grazie al pubblico, però ripeto complimenti ai ragazzi perché hanno fatto veramente una buona difesa, un parito di grandi sacrifici. Dopo la sconfitta con l'indisi, il tuo bisogno ambulante ha colto insieme, insomma è un aspetto adesso che la risposta di vista mentale, di essere in campo, mi ha dato una soddisfazione? Molto, mi dà molta soddisfazione, mi dà molta soddisfazione vedere anche Amar e Tommaso, due ragazzi che hanno lavorato con me un anno e tre mesi, due mesi, vedere che sono cresciuti, che tengono bene il campo, da allenatore è bello non solo vincere le partite ma anche vedere che i ragazzi che hanno fatto un percorso con te riescono a tenere bene il campo, merito loro, ma fa piacere avere condiviso con loro questo periodo di lavoro, quindi sono contento per loro e mi fa piacere per la squadra che dopo lo schiaffo di Brindisi, quando abbiamo trovato un po' di condizione nei giocatori che recuperavano, onestamente Cremone è stata una partita con molti errori ma di grande cuore, di grande generosità, però direi Pistoia è quella di oggi, di grande intensità anche difensiva, quindi secondo me la strada è questa, c'è tanto da fare ancora ovviamente, però sono tutti segnali veramente molto confortanti. Piero, una gara quasi perfetta, è stata lucidissima la tua strategia, l'hai dirato molto, meno da tre, si è andati vicino al ferro a far male a loro che erano effettivamente un po' giocontanti, ma quello che è piaciuto è stato proprio lo spirito battagliero e anche il fatto che prima sale in cattedale Jefferson, poi sale in cattedale, quindi la squadra si sta cominciando a comporre, domanda, forse è meglio quello che rimaniamo con i piedi per terra? Non ho detto niente di... Non ho detto nulla, nel senso che assolutamente sì, senza forse, stare con i piedi per terra, ho fatto i commenti ai ragazzi per la partita e che i segnali sono confortanti, non ho detto che niente di particolare, sono due punti che mettiamo in tasca, speriamo di fare presti numeri sufficienti per salvarci, ma veramente un passo alla volta, ripeto, la cosa importante è che la spada cresce, questa è la cosa che mi piace, che difendono, che vogliono passarsi la palla, che effettivamente, come hai detto, è anche giusto, sono protagonisti diversi all'interno della gara, perché anche, hai citato Jefferson, Geron, però anche i canestri del secondo tempo di Buford, veramente chirurgici, ha fatto tre o quattro canestri veramente in momenti importanti, anche difficili, mandando spallate a Bologna che cercava giustamente di recuperare, quindi ti devo dire, segnali confortanti, ovviamente, però assolutamente che ho piedi per terra, continuare a lavorare, non si è fatto nulla, è una classifica molto corta, con squadre che possono vincere e perdere dovunque, e quindi veramente con molta umiltà, ma con grande determinazione, questo che mi è piaciuto oggi, che siamo spattuti, abbiamo fatto una buona difesa, e queste sono le cose su cui bisogna ovviamente puntare ogni volta. Grazie. Allora, è assoluto complimenti, Piero, perché noi siamo sempre abituati a dare a tosso agli allenatori quando si perde, questa volta bisogna fare i complimenti, perché c'è tanto che lo bucchi in questa vittoria, come diceva lui, siamo arrivati che si tiravano un 40% da tre punti, ed era stata una grossa arte in queste prime giornate, oggi tu l'hai anzercata completamente, perché hai giocato sotto canesso da Jefferson, hai giocato sotto canesso da Ali Begovic nel terzo quarto, perché molti forse non si ricorderanno, ma ha fatto una serie di canessi importanti, e io direi l'apporto anche di Kisli, in un ultimo quarto, è stato importante, perché uscivo fuori in difesa e in attacco. La mia domanda è questa, dopo lo schiaffone contro Brindisi, quella giornata di confusione, tu ti aspettavi una reazione così, non mi direi che lo speravi, però se ce l'aspettavi proprio a livello razionale della squadra, e dove e quanto ancora c'è da migliorare per riuscire a fare un campionato tranquillo, e portare tanta gente al Palazzo, perché tu questa sera hai portato più di 4.000 persone al Palazzo, e credo che domenica prossima contro Milano, con 6 punti in classifica, se non ci saranno 7.000 spettatori almeno, allora forse è meglio parlare di qualcosa di altro. Guarda, allora, ti dico, hai fatto 4-5 domande in fila, Lui non si è d'accordo, lui non si è d'accordo, abbiamo 4-5 domande comunque, no, a parte gli scherzi, io già in pre-campionato ho avuto segnali confortanti, se ci pensate non abbiamo mai giocato a conflitto, mai, anche oggi era fuori Roberto, questo ovviamente, e invece abbiamo le rotazioni molto corte, abbiamo rotazioni corte, dobbiamo ovviamente farle a un ragazzo giovane che sta provando, ma è un ragazzo giovane ovviamente che sta provando, ma è ovviamente normale che abbia difficoltà. Rulle fuori, quindi alla fine gli esterni sono peri, sono 4, di conseguenza bisogna effettivamente rotare veramente tanto, e appena oggi Kingsley ha avuto due falli presto, e mi ha messo in difficoltà anche la protezione, infatti lui ha fatto un secondo tempo nettamente migliore, perché non aveva paura di fare il terzo fallo, come invece aveva nei ultimi 10 minuti del secondo quarto, lì invece se un giocatore in più magari può restare fuori più tranquillo e sereno, gioca un altro, spende due falli in più, e non c'è problema, invece abbiamo giocato con un po' di timore, da parte sua giusta, non è una condanna, perché probabilmente se un terzo fallo sul diventa un problema, però segnali confortanti, fin dalla pre-stagione, però anche pre-stagione sempre con qualcuno che sta fuori, qualcuno che sta male, qualche piccolo problema, cosa che invece c'è tuttora, è chiaro che avere la squadra completa è importante, le rotazioni corte da un lato sono vantaggio, perché tutti quanti anche se sbagliano sanno che stanno in campo, nello stesso tempo però è rischioso per i falli, per la fatica, devo dire che la squadra nel secondo tempo ha tenuto molto bene, siamo riusciti ad andare via anche proprio, pur giocando con pochi giocatori, e quindi devo dire che la squadra sta anche bene, in questo momento dal punto di vista atletico. Ti ripeto, per tornare alla tua domanda, nello specifico, mi aspettavo delle cose interessanti, perché quando abbiamo giocato quasi a completo in pre-stagione, ho visto delle belle cose, però da qua a sapere quanto abbiamo accorto di miglioramento, sono anche difficili, l'importante è dare una giornata in palestra, lavorare duro, su cui dopo ogni domenica c'è il prossimo, ci sarà un nuovo esame a cui fare attenzione. L'ASI? Posso cercare di toccare un po' i punti che tu vuoi toccare.